Nell'ambito dei lavori di riqualificazione previsti a Intra con i fondi del PNRR, oggi si è svolta una riunione del gruppo di lavoro tra l'amministrazione comunale, i rappresentanti degli esercenti, categorie e associazioni. All'ordine del giorno l'avvio del primo lotto dei lavori che riguarderà il lungolago di fronte a Piazza Ranzoni, nella parte compresa tra il porto e l'edificio dell'ex imbarcadero. Da lunedì 29 ottobre, meteo permettendo... Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online, è live 24 ore su 24.